Benvenuti, nuovo mese e già pesanti crolli in borsa. Vediamo se c'è qualche spunto per navigare la volatilità e l'incertezza nonostante lo scenario deprimente in cui ci troviamo. Guarderemo indici, azioni, materie prime, obbligazioni, in particolare quelle russe, ETF e tanto altro. Per favore iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, grazie. Allora, performance settimanali, abbiamo Austria, meno 14%, un indice con pochissimi nomi, come potete vedere, sicuramente impattata maggiormente da questa banca che aveva una forte esposizione in Russia. E vi invito ad andare a vedere il video che ho fatto qualche giorno fa sui crolli di borsa delle banche. Se volete approfondire il tema, naturalmente, abbiamo il Futsimib, principale indice di borsa italiano, meno 13% sul settimanale, meno 6% sul giornaliero, quindi un crollo spaventoso. Ungheria, meno 12%, Eurostoxx 50%, quindi teoricamente le milioni e 50 aziende d'Europa, meno 10%, meno 5% sul giornaliero. Risultato analogo per l'indice francese, anche il DAX, ovvero l'indice tedesco, meno 10% sul settimanale, meno 4,5% quasi sul giornaliero. Spagna, meno 9%, Olanda, meno 7,7%, Belgio, meno 7,4%, eccetera, eccetera. Indice americani, Nasdaq, meno 2,8% sul settimanale, Russell, Small Cap, meno 2,4%, Dow Jones, meno 1,3%, S&P, meno 1,3%. Ormai lo saprete meglio di me, S&P ha 500 nomi, Dow Jones ne ha 30, Nasdaq ne ha solo 100. Nasdaq comprende in larghissima parte dei titoli tecnologici, Dow Jones titoli più industriali, S&P è più diversificato e all'interno di questo abbiamo certamente titoli energetici o che trattano materie prime. Per questo vedete cali meno sostenuti rispetto al Nasdaq. Cina sorprendentemente bene, Russia non ha neanche aperto, quindi non lasciatevi ingannare di questo zero. Miglior indice è il VIX, l'indice della paura, come lo chiamano quasi tutti. Siamo allo stesso livello che c'era a marzo 2020, la settimana del 4 marzo, poi quella dopo fu ancora più tragica per i listini di borsa e portò addirittura la Fed ad intervenire e da lì si formò poi quel minimo da cui partì un bull run epico. Questa volta però mi sembra diversa la situazione, non credo che la Fed nelle altre banche centrali abbiano a disposizione nel loro arsenale delle armi di distruzione di massa in grado di sorreggere i mercati per spingerli molto più in alto, però tutto può succedere. Andiamo a vedere nello specifico l'indice francese. Abbiamo Société Generelle, sempre nominata nel video delle banche, meno 26%, giornaliero meno 9%, NG Multi Utility che compra gas dalla Russia, meno 25% per la settimana, Renault meno 24%, Veolia Multi Utility che si occupa di rete idrica e di rifiuti, meno 20%, Stellantis meno 18%, Alstom meno 17%, Credita Agricola e BNP Paribas, quindi banche meno 17%. Come potete vedere perdono meno di Société Generelle perché hanno meno esposizione alla Russia. Airbus, meno 16%, meno 7,5% per il giornaliero. Passiamo al lusso con Louis Vuitton, meno 13% e meno 6% sul giornaliero e Kering, meno 12,5% e meno 7,5% sul giornaliero. Poi abbiamo Asylor Luxottica, meno 11%, Total che fa meno 8%, che mi sembra un po' particolare nel senso che qui siamo sul petrolio e perde così tanto, mentre in America come vedremo la situazione è differente. Hermès, meno 6%, ha resistito a differenza di Kering e di Louis Vuitton. Unica fortemente positiva è Thales che si occupa di Aerospace and Defense e Dassault che fa stessa cosa, praticamente più 1%. Indice tedesco abbiamo Deutsche Bank, principale perdente. Volkswagen, meno 22%. Continental, come anche Michelin dall'altro lato, meno 22%. Non ho approfondito ma su due piedi direi che il costo della materia prima, il costo del greggio, inficerà molto sul loro conto economico. HelloFresh, quindi ti arriva il kit per preparare il pranzo a casa, meno 20%. Daimler, Mercedes, meno 20%. Porsche, meno 19%. Zelando, meno 18%. Puma, meno 17%. BMW, meno 17%. Basf, quindi chimica, meno 15%. Adidas, meno 13%. Pico-vestro abbiamo immobiliare, meno 12%. Infine abbiamo semiconduttori che vanno nelle automobili principalmente, meno 11%. Allianz, assicurazioni, meno 9%. Dolce Telecom, meno 5%. Vonovia, real estate, immobiliare, meno 5%. SAP, gestionale, meno 5%. Bayer, farmaceutico, meno 3%. E questa qui è l'unica positiva, più 1%. Passiamo alle materie prime. Abbiamo il gas naturale in Europa o comunque nel vecchio continente, più 43%. Prossimamente farò un video di approfondimento su questo aumento assolutamente devastante delle materie prime. Ne ho già parlato in qualche video. Tantissime aziende in settori energivori falliranno. Bisogna fare edging mesi e mesi fa. Se non l'hanno fatto, sono spacciate. A meno che questi prezzi non ritraccino a breve, ma non penso sia possibile o probabile, considerando tutte le sanzioni che stanno combinando la Russia. E cosa sta accadendo in quell'area in quel momento lì? Eating oil, quindi petrolio per riscaldamento, più 32%. Benzina, più 30%. Palladio, più 26%. Greggio, più 26%. Nickel, più 24%. Petrolio greggio in Europa, più 20%. Qui è particolare, secondo me. Nel senso il VTI, che è quello texano, più 26%. Mentre quello che si estrae al mare del nord, più 20%. Alluminio, più 16%. E comunque stanno festeggiando quindi sia le azioni che estraggono alluminio, sia quelle che estraggono petrolio. Zinco, più 14%. Quattorrici, legname che utilizzano per costruire in America, più 10%. Natural gas, più 10%. Rame in America, più 10% quasi. Rame in Europa, più 9%. Argento, più 8%. Platino, più 6%. Oro, bene rifugio, più 4,6%. Adesso tutti i fenomeni, ah ma io avevo il portafoglio difensivo con l'oro che mi fa più 4,6%. Ok, hai visto tutte le altre materie prima e quanto sono salite nella stessa settimana e nello stesso frangente. Ovvio che l'obiettivo è differente, però nello scenario di stagflazione sicuramente è meglio andare su qualcosa legato al petrolio o comunque alle materie prime, alle energie e non puntare sul gold. Comunque sono preferenze, poi dipende a quale scuola di pensiero aderite. A livello di materie prime agricole o comunque legate all'alimentare invece si va un po' meglio. Nel senso calano e quindi per noi consumatori per il momento non si dovrebbe assistere a ricarichi sui prezzi del cibo. Andiamo a vedere le obbligazioni in Russia. Abbiamo a 6 mesi un rendimento del 24%, due settimane fa stava al 16%, un mese fa stava al 10%, un anno fa stava al 4,5% quasi. Curva invertita, quindi man mano che si va avanti rende meno. Perché questo sarà il momento più critico per la Russia, è certamente un peggioramento, infatti vedete che dal rosso si sale sul blu e se si sale per un rendimento significa male. Per quanto riguarda i cambi, il dollaro compra il 26% di rubli in più rispetto ad una settimana. Se prima comprava 83 rubli, adesso ne compra 105. A direttura c'è stato un massimo a 118. Altri titoli che in Europa hanno fatto molto male per la settimana abbiamo intesa San Paolo con un meno 24%, meno 9% sul giornaliero. Enel con un meno 14%, Inditex Zara meno 16%, Eni meno 7%, SML meno 10%. Un po' di analisi tecnica sul Nasdaq, come sempre permane la conformazione bearish, quantomeno su medio-lungo termine. In quanto abbiamo dei massimi sempre più decrescenti, come potete vedere qui è più in alto di qui, che è più in alto di qui, che è più in alto di qui. Questo è il massimo relativo. Per quanto riguarda i minimi la situazione cambia un po', il minimo è stato questo. Adesso il minimo più recente è più in alto. 3,37 potete vedere che è intersica a vari livelli di prezzo in vari tempi. Qui, 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 qui e qui. Può, diciamo, trovare supporto qui. È una fascia di prezzo dove ci sono state tante contrattazioni. Potete vedere anche qui e qui. Però certamente un punto di acquisto più interessante, non per me ma per il mercato, sarà in area 320, cioè da dove è partito il 2021. Ha intersecato molto bene quest'area per tanto tempo. Sul giornaliero, la giornata del 24 febbraio, ha aperto a quel livello lì ed è salito del 6% in un giorno. Io non ho la sfera di cristallo, ma a livello probabilistico, se c'è un qualche vantaggio, secondo me da questi 3,37 si può cedere fino a 320. I bull proveranno a comprare a 320, ma se 320 non regge si va ancora più giù. Questo è lo scenario un po' più probabile, che non è assolutamente certo, quindi prestate massima attenzione. Sicuramente questo grafico non è bullish. E fate attenzione sempre ai soliti fenomeni che sui gruppi Facebook o dovunque ti dicono di comprare, che non puoi fare market timing, che non puoi fare niente. Sta gente sta perdendo un sacco di soldi e magari non ha neanche tanti soldi investiti. Ve l'ho letto in un video inizio anno, non fatevi condizionare da queste persone, che probabilmente hanno iniziato ad investire neanche due anni fa. Andiamo a vedere come da consuetudine l'ITMAP. Abbiamo servizi finanziari, Visa Mastercard, meno 3%, PayPal, meno 1,4%. Banche, JP Morgan, meno 3%. Bank of America, meno 3,5%. Wells Fargo, meno 5%. Anche le regionali abbastanza male. Assolutamente opposto settore oil and gas con Exxon, più 4%. Chevron, più 1,5%. Conoco, più 3%. Le utilities qui stanno andando bene, più 2%. Walmart, più 2,5%. United Health, assicurazioni private e sanitarie, più 2,5%. Avago, buona trimestrale, più 3%. Gli altri semiconduttori deludono un po' con Micro, meno 8%. NXP, meno 4,5%. AMD, meno 3%. Nvidia, meno 3%. Le major, Microsoft, meno 2%. Apple, meno 2%. Google, meno 1,6%. Facebook, meno 1,4%. Amazon, meno 1,5%. Tesla, parità per venerdì. Ford, meno 4%. GM, meno 6%. Malei viaggi con, meno 6% per booking. Crociere, meno 6%. Hotel, meno 4%. Negozi di vestiti, meno 5%. Benino, settore, salute. Sul settimanale, invece, le variazioni si fanno ancora più marcate. Ancora più difficoltà per le banche. Meno 9% per JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo. Meno 9%, anzi, meno 10% per PayPal, Mastercard e Visa. Molto bene Oil & Gas con Chevron, più 13%, più 8% per Exxon. Conoco, più 10%, eccetera, eccetera. Male per i viaggi, meno 12%, meno 13%. Crociere, meno 18%. Hotel, meno 8%. Netflix, meno 7,5%. Disney, meno 6%. Charter, meno 8%. Amazon, meno 5%. Facebook, meno 5%. Tesla, positivo, con un più 3,5%. Semiconduttori, meno 10% per AMD. Micron, Nvidia, meno 5%. Morgan Stanley, Charles Schwab e Goldman Sachs dai meno 6% ai meno 8%. Insomma, una situazione pesante. BlackRock, meno 7%. Il tema di fondo qual è l'esplosione delle materie prime dovute a questa guerra che c'è in Ucraina. Parla di uno scenario di stagflazione, quindi la crescita rallenta perché il costo delle materie prime è salito molto e quindi le persone faranno molta fatica a fare consumi, ad andare a fare viaggi, ad andare in hotel e così via. Le banche non fanno credito o comunque ritengono poco saggio fare credito ai tassi che la Fed, tra virgolette, consente. E qui dico tra virgolette perché poi per spiegare tutto il meccanismo ci perderei altri 5 minuti e non mi va. Dunque, il rallentamento dell'economia dovuto all'esplosione dei prezzi delle materie prime va ad impattare poi la politica economica che distrisce o va ad impattare il conto economico di queste banche qui. Se ci si attendeva un forte rialzo dei tassi che avrebbe premiato le banche e il net interest income di queste banche qui, adesso non è più possibile. Lo scenario stagflazione durevole diventa molto preoccupante. Ci saranno consumi molto bassi, costi molto elevati, classe media, ceto medio-basso decimati. Quindi preparatevi perché non si mette assolutamente bene. Se vorrei fare un approfondimento probabilmente lo farò. Titoli della difesa abbiamo Lockheed Martin più 12, Northrop Grumman più 14, General Dynamics più 8, Boeing che comunque è relativo ai viaggi, Booking meno 12, Boeing fa meno 10, Airbus l'abbiamo già visto in Germania male e quindi questa è la narrativa. Passiamo agli ETF per avere sempre una visione più di insieme. Mercati sviluppati molto male, peggio degli emerging markets. Abbiamo dei meno 7, dei meno 6. Mercati emergenti fa solo, tra virgolette, meno 5. In Europa abbiamo meno 10, Eurozone addirittura questo meno 13. Cina meno 6%, azioni globali escludendo gli Stati Uniti meno 6%, meno 6, meno 6, blablabla. Russia meno 63% per quelli che scambiano ancora, addirittura c'è il Rusl meno 77%. Settoriali abbiamo semiconduttori molto male con un meno 6%, questo è meno 16 ma è a leva. Energetici meno 13%, questo fa meno 10%. Consumer discretionary meno 2,6%, meno 2,3% per il retail, quindi sono vendite al dettaglio, ad esempio GameStop, quei negozi lì. Real estate immobiliare positivo, finanziare come abbiamo detto prima, chiaramente negativo, meno 5%, FAS che a leva, meno 13. Abbiamo il VXX più 14%, più 9% per i miners, mentre l'oro vero e proprio fa più 4 e basta. Argento fa meglio più 6%, petrolio, materia prima, più 20%, natural gas più 10%. Andiamo sul reddito fisso, quindi obbligazionario, titoli legati all'inflazione più 2,20. Titoli obbligazionari ventennali e oltre più 2,4. Quindi come vi avevo detto qualche video fa, l'obbligazionario durante la guerra può anche andare bene. Per due motivi, da un lato c'è la corsa ai titoli difensivi, dall'altro lato non c'è la paura di rialzi dei tassi. Quindi nonostante l'inflazione molto elevata, questi titoli qui sono saliti. Ma il problema è un altro. Questi qui è chiaro che sono sintetici, sono degli ETF. E l'obbligazione sottostante sotto paga una certa cedola. Questa cedola ha un rendimento reale negativo, significa che il rendimento nominale è inferiore al tasso di inflazione. Quindi ok che tu stai salendo un po' di qui, però in termini reali sei più povero. Adesso carrellata di titoli quotati in America. Abbiamo Yandex, titolo russo a meno 61% per la settimana. E-POM Systems, che è americana, però ha operazioni in Ucraina. E qui ha rimosso la Guidance. Il mercato si è spaventato. È tipo una società di consulenza, stava a 700, ora sta a 200. Price earnings di 14, pre-disastro. Adesso probabilmente salirà questo multiplo perché faranno meno soldi. A lungo termine non credo che questa situazione sia irreparabile. È chiaro che nel breve il mercato si può spaventare talmente tanto da portare questo price earnings anche a 5-6. Quindi potrebbe anche dimezzarsi e andare a 100. Personalmente io non la comprerei. Abbiamo Ozone, che è un altro titolo russo. Grab Holdings, Singapore. Consegne a domicilio. Valutazione ridicola anche dopo che ha perso il 70% in sei mesi, secondo me. GDRX, mi pare sia tipo il trovaprezzi ma per i medicinali in America. Ambarella, tema guida autonoma. Intelia, tema CRISPR, che piace o piacevo molto a Katie Wood. Carvana, che ha perso anche qui il 70% in sei mesi. Cresciuta tantissimo a livello di fatturato. Concessionari di auto, soprattutto usate in America, online. E dicono che l'amministratore delegato sia un fenomeno e abbia fatto proprio la rivoluzione a livello operativo. Siamo a livelli di abilità tipo Tim Cook di Apple, quando c'era Steve Jobs. Bumble, app di dating, nuovi minimi, meno 30% per la settimana. Farfetch aveva fatto quella esplosione post-trimestrale e poi ha perso il 30% in settimana. Sea Limited, con Shopee leader in tanti paesi del Southeast Asia. Poi hanno anche e-gaming, i sports. Sicuramente cresce molto, ma molto in fretta. 71% di crescita annualizzata su 5 anni è veramente mostruoso. Scambia moltiplici contratti, però i margini comunque anche in uno scenario normalizzato di profittabilità, dove si va a ricercare più il profitto che la crescita. Non sono sicuro che a questi prezzi consentano un acquisto value. Ma è nella follia e nel panico può anche tornare ai livelli pre-pandemici, ai 50%. Li quoterebbe 25 miliardi circa e per essere leader in Southeast Asia faresti veramente un grandissimo affare. Poi magari non ci va e ritorna a 350, però secondo me non è plausibile a questo scenario. Deutsche Bank, meno 25% settimanale. Rivian, che avrà la trimestrale prossima settimana, meno 25%. Bay, che è tipo agenzia immobiliare online in Cina. Nuovi minimi, dopo questa lunghissima base, questo range lunghissimo. Abbiamo Snowflake, Warren Buffett dovrebbe averne circa 2 miliardi ed è entrato lui a 100 pre-IPO. Abbiamo Sketchers, calzature. PVH sarebbe Calvin Klein, meno 21%. Capri Holding, Cors, Versace, Jimmy Choo, meno 21%. Pinduodo, meno 20%. Qui siamo ritornati a livelli pre-pandemici. Se non fosse cinese sarebbe veramente stra-interessante. Abbiamo Open Door, che avevo detto che avevo preso, ma ho venduto. Abbiamo Billy, cinese, meno 19%. Abbiamo Futu, broker, sempre sulla Cina, meno 19%. Ryanair, meno 18%. Carnival, crociere, meno 18%. TripAdvisor, meno 18%. Quindi vedete la sofferenza dei viaggi. YonQ, pure play sul quantum computing, questo era un giochino che avevo, meno 18%. Viva, gestionale per ospedali, meno 17%. Questa piaceva molto in passato, adesso è salita molto comunque. Abbiamo altre crociere, meno 16%. Abbiamo altri voli, meno 17%. Peloton, meno 17%. Asana, che avrà la trimestrale, meno 16%. Tencent Music, meno 15%. PagSeguro, Brasilec, meno 15%. UBS, meno 15%. Xpeng, auto cinesi, elettriche, meno 16%. Insomma, questa è la situazione, gli indici scesi di poco, situazione che sembra preoccupante. Alcuni titoli scesi veramente di tanto e iniziamo ad entrare nell'ottica di certi nomi, sono Deep Value, e li potresti anche tenere per tanti anni. Personalmente è un po' complicato spiegarvi la mia operatività. In un video di YouTube in due minuti, però, io resto sempre più convinto che sia meglio agire in maniera tattica e cogliere le opportunità che il mercato ci dà, anziché andare sulla soluzione ultra semplice che ha sempre funzionato, ma che ora non sappiamo se continuerà a funzionare. Per quanto riguarda le migliori, abbiamo Occidental Petroleum, più 17%. È uscito, dicono Carl Icahn, ed è entrato più pesantemente Warren Buffett. Voi potete leggere sotto al nome, c'è scritto il settore, no? Questo, Medical Facilities, Utilities, Thermal Call, Banche, Alluminio, Oro, Petrolio, Kroger o Kroger, negozi di alimentari. Comunque, se notate, sono tutti petrolio, materie prime, cose del genere, perché, come abbiamo visto, il prezzo delle materie prime è esploso. Il mercato, sui titoli azionari, pensa che sia durevole questo scenario di prezzi di materie prime sostenuti e quindi queste aziende qui faranno tanti soldi. Addirittura il titolo più performante della settimana è del settore del carbone. Cioè, mancano talmente fonti energetiche che si è ritornati ad utilizzare il carbone che è inquinantissimo, ma costa meno. Prossima settimana abbiamo la trimestrale di JD.com, la trimestrale di Rivian, CrowdStrike, MongoDB che ha perso il 20% questa settimana, DocuSign che piaceva a qualche youtuber, ma che ha continuato a perdere circa il 33% da quando piaceva, UltraBeauty, catene di negozi di cosmetici, a me piaceva quando stava a 200, adesso a 360 non la toccherai, Baker, ne abbiamo parlato prima, Asana di Dustin Moskovitz, chiacchieratissima, lui è un pazzo furioso che compra 60-70 dollari a botte di 20-30 milioni, quindi sarò curioso di vedere se ha comprato bene o no. Teoricamente dovrebbe essere un bel trimestre quello che sta venendo, no? Se no non comprebbe, però magari è un pessimo trimestre, il titolo crolla a 20-25, sarebbe super irriverente. Abbiamo Zim, che per me resta assolutamente un mistero, posta la vostra attenzione sul gruppo Telegram a settembre, quando stava a 60, adesso sta a 20% sopra, con i mercati che sono calati, non è andata direttamente a 72, però comunque stiamo a price earnings di 2,5, dividendo del 14%, siamo incorporati ad Israele, si occupano di spedizioni via mare, ritorno sugli investimenti 33%, ritorno sull'equity più 200%, quindi clamorosa, non capisco perché non sia molto più in alto, però vabbè, non la prenderei pre-trimestrale, sperando in una forte mossa rialzo, eventualmente comprerei un dip post-trimestrale, però bisogna poi andare a vedere i risultati, ecco. Bene, chiudiamo qui il video, grazie per essere arrivati fin qui, un abbraccio virtuale, ci sentiamo presto, ciao ciao!